Poi chiaramente sul bullismo, il cyberbullismo, anche lì nella relazione ho spiegato che stiamo facendo di tutto per intervenire non tanto e non soltanto sulla repressione, comunque attualmente sanzionata nelle varie forme in maniera abbastanza grave, ma in termini di prevenzione e questo lo si fa con l'educazione alla legalità.